Il centro-destra ha ritrovato una compattezza che non ritrovava da diversi anni, un'unità di intenti che sta dimostrando sul campo tutti i giorni facendo campagna elettorale tutti insieme. Stiamo girando tutta la città, tutti i quartieri, c'è molto entusiasmo tra i candidati che stanno dando veramente il massimo e la gente sta capendo anche la bontà del progetto, che è un progetto che nasce come progetto civico, poi appoggiato dai partiti e condiviso con loro. Quindi questo è un elemento importante perché la gente a Vicenza percepisce proprio la voglia di cambiamento, io spero che poi questo si traduca in atti concreti dopo il 10 giugno. Io spero nel voto utile, a questo punto è importante che i cittadini decidano centro-destra, centro-sinistra in maniera tale che poi quanto prima si arrivi ad un'amministrazione stabile, a un sindaco che possa cominciare a lavorare.